Na 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 Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono fatti Son fortiere e attaccante, Oli e Benji, due speranze Loro vogliono sfondare e campioni diventare Per poter così giocare nella squadra nazionale Nella squadra nazionale Oli e Selena tirando i rigori, Oli e Selena parando i rigori Sembrano partite gli allenamenti, Santa è la classe dei due contenti Oli ricorre ogni pallone, Benji lo segue con attenzione In questa sfida senza vincenti, fai due ragazzi felici e contenti Oli e Selena tirando i rigori, Benji e Selena parando i rigori Sembrano partite gli allenamenti, Santa è la classe dei due contenti Oli ricorre ogni pallone, Benji lo segue con attenzione In questa sfida senza vincenti, fai due ragazzi felici e contenti